C'è il sole attorno a me Amici, buongiorno, buon venerdì. Venerdì? 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 Che numero è oggi? Venerdì? 12 novella, ma perché lei non sa mai numeri? Lei fa la furba, lei fa la furba, perché magari ha paura di sbagliare, dice se sbaglia, sbaglia i vergami, intanto la figuracce le faccio sempre io. Adesso ho un segreto, siccome Luca ha un foglio, che lo guarda solo lui e non me lo fa vedere, così lui mi ricatta e dice se puoi... Oggi però lo devi sapere che è venerdì 12, non è che... Oggi è venerdì, uno dei tanti venerdì. Non è che le ho chiesto che brano mandiamo in onda, le ho solo detto che numero è. Eh, pazienza, non ero pronta. Va bene, va bene. E sapevo che era venerdì. Venerdì 12, allora venerdì 12, sapete già da ieri che questa sera saremo a Salizzole, provincia di Verona. Eh, queste tre date in Veneto, belle, belle, poi sagre bellissime, tantissima gente, bello, bello. Però visto che noi ci rivedremo solo lunedì, volevo ricordarvi anche l'appuntamento di domani sera. Domani sera saremo a Cesole, festa di piazza di Cesole, provincia di Mantova. E poi, Cailungo, festa di San Rocco, Cailungo di San Marino, domenica 14, mi raccomando. Ormai quanti anni sono che andiamo a Cailungo per la festa di San Rocco? Sono tanti anni, eh. Ringrazio Mirko, tutto lo staff di questa bellissima festa, l'agenzia Leardi di Renzo Leardini. Sì, veramente, Mirko è stupendo, è una persona. Sì, una persona splendida. Allora, ricordatevi, è sabato a Cesole, provincia di Mantova, e domenica ci troverete a Cailungo, eh? No, sì, sì, esatto. Hai detto bene. Domenica a Cailungo, San Marino. Allora, torniamo invece a parlare di emozioni e tradizioni, perché oggi puntata dedicata a Raul Casadei, sui grandi successi, lo sapete, prima del brano, oggi abbiamo scelto di aprire anche con un bellissimo valser, che è scritto, mi sembra, dal grande Enrico Muccioli, che è Pensiero Lontano. Qui troveremo sul palco Marco Tagliavini e Gabriele Zaccherini, ma prima lo sapete, è il nostro spot della Cruciera del Cuore. 15-25 di ottobre. A dopo. Amici cari, la musica unisce, la musica fa sognare, la musica fa piacciare, perché siamo qui, insieme a queste persone meravigliose che voi tutti quanti amate, siamo nelle vostre case, con la musica e le canzoni, perché cosa faremo? La Cruciera del Cuore, Cappelletti, quella con il cuoricino così, eh? Dal 15 al 25 ottobre. Ragazzi, preparata la bandi, eh? Eh, sì, è preparatissima. Anche perché, ragazzi, c'è un itinerario meraviglioso, Portogallo, Francia, Spagna, un itinerario da scoprire anche attraverso tutte le escursioni, eh? Una cosa importante è... E dove si incosta? Cruciera. Sì, e poi la cosa importante, non abbiate paura, perché tutti dicono, ma il Covid, cosa c'è? C'è una sicurazione che vi tutela sotto tutti gli aspetti e poi soprattutto a chi devono prenotare. E noi viaggiamo da tanto tempo. Già, Filippo, ragazzi, è una garanzia. Sereità, competenza. Una bella persona. Esatto. Che butteremo a mare, però è una bella persona, ragazzi. Quindi, mi raccomando, ripetiamo, 15, 25 ottobre 2022, la Crociera del Cuore con... Roberta Cappelletti. Luca Bergamini. E anche lei. No, bella. No, bella avanti. Ragazzi, vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Anzi, una cosa da sottolineare, entro il 15 agosto bisogna prenotare perché vogliamo davvero navigare per avere tutte queste sicurezze, queste certezze, ma soprattutto per divertirci insieme. Ragazzi, spendete i soldi. Questi sono spesi benissimo. Buah! Sono d'accordo. Ciao! Ciao! musica 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 e questo era Pensiero Lontano, la grande tradizione era a Casdei, cogliamo anche l'occasione di novella di salutare tutta la famiglia Casdei, da Mirna a Carolina a Mirko, veramente alla signora Pina, tutta questa grande famiglia. Allora, prima di passare al prossimo brano che è l'autostrada, sai perché faccio così? Perché mi ricordo Marco Tagliavini prima della partenza di questo brano, sembrava un camionista in mezzo all'autostrada, ci ha messo tutti a ridere. E' bello, bello. Mi raccomando martedì 16, prenotatevi perché vogliamo passare insieme a voi con tutti i nostri ragazzi, l'orchestra Bergamini al completo, questa chiusura di questa seconda edizione. Vi ricordo anche qui vedete la banda per degni di nota, avete visto prima i numeri di telefono di Casa Bergamini, adesso faccio fare una confusione Renato. Ci sono tanti numeri di telefono, per cui bisogna stare attenti e prenotare, magari non prenotate degni di nota, non chiamate per degni di nota Gioacchino e non chiamate Teleromagna per Casa Bergamini. Sì, oppure anche la crociera del cuore, dipende. Esatto, la crociera del cuore è stata messa in un angolino solitario. E' importante che chiamano, dopo poi ci organizziamo. Allora, adesso l'autostrada, ci vediamo tra poco. L'autostrada! Corri come il vento, io corro accanto a te, sull'autostrada mi porti volando. Non so dove mi porti, vai pure dove vuoi, correndo nei baci felice rispondo, fugendo in altostrada, nessun ci fermerà. Corri come il vento, io corro accanto a te, sull'autostrada mi porti volando. Corri come il vento, io corro accanto a te, sull'autostrada mi porti volando. Non so dove mi porti, vai pure dove vuoi, correndo nei baci felice rispondo, fugendo in altostrada, nessun ci fermerà. Corri come il vento, io corro al vento,étéka esta påzita, nessun ci fermerà. Corri come il vento, senza un poco, successo a te, sull'autostrada, nessun ci fermerà. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Adesso Renato manda via tutto Torniamo con la splendida Voce e bellezza di novella Che ci ricorda che questa sera Saremo a Salizzone, provincia di Verona Domani sera saremo A Cesole, provincia di Mantova Domenica saremo a Cailungo Grande, mi dia la mano Cin cin Cailungo di San Marino Festa di San Rocco da Mirko E tutta la compagnia Ci vediamo lunedì ragazzi Ci vediamo lunedì Buon fine settimana Buona vita, buona musica Andate a ballare mi raccomando Continuate ad andare a ballare Abbiamo bisogno dei vostri sorrisi Ti senti come sono romantico Grazie Hello, hello, hello Questa mia malinconia È dovuta al fatto che Noi da tempo non parliamo più Ci nascondiamo dietro la realtà Il motivo è che fra noi Tu lo sai meglio di me Ormai tutto è insopportabile Sei sparita io non so Di dove sei L'inverno se ne va E l'estate arriverà Con gli amici in compagnia Si parlerà di te, di me Io dirò la mia bugia Che tu sei andata via Ma non è la verità Ma all'inverno se ne va E ti ha già portata via Io che sento nostalgia Ripenserò a te, a me Quando c'era l'allegria Quando eri ancora via E non c'era falsità E non c'era falsità Se poi penso che fra noi C'era più complicità E vorrei tornare indietro ma Mi rendo conto che tu non lo vuoi L'inverno se ne va E l'estate arriverà E non c'era Con gli amici in compagnia Si parlerà di te, di me Io dirò la mia bugia Che tu sei andata via Ma non è la verità Ma non è la verità Ma all'inverno se ne va E ti ha già portata via Io che sento nostalgia Ripenserò a te, a me Quando c'era l'allegria Quando eri ancora via E non c'era falsità Quando c'era l'allegria Quando eri ancora via E non c'era falsità E non c'era Recht E non c'era E non c'era E non c'era